Ingozzarsi, idromassaggiarsi e aiutare la scienza è il viaggio più stratosferico di tutti i tempi. È assolutamente non spaventoso. Non ricordo nemmeno cosa voglio dire avere pa... Adesso me lo ricordo. Lo spettro del dinosauro! Lo spettro del dinosauro, lo spettro del dinosauro. Molto interessante, somiglia in qualche modo a un palacchiosauro, solo che è fosforescente e non è estinto. Andiamo! Ormai, stanotte il mondo moderno è in pericolo e ci serve il tuo aiuto. Ormai al mondo non c'è più posto per un drago come me. Ehi, tu sei un dragone, non sei un vermone. Non puoi avere paura di un piccolo duello? Voi non avete l'aria di due samurai. Diglielo, Shaggy. Dai, diglielo. Ecco, siamo dei samurai moderni. Ora va meglio. Ehi, guarda! Da un'occhiata. Abbiamo appena lanciato lo stile samurai vecchia scuola. Sì, vecchia scuola. Per secoli sono stato a guardia della spada del fato. In attesa del giorno in cui ci sarebbe stato ancora bisogno di lei, quel giorno è finalmente giunto. La leggenda deve finire là dove tutto ha avuto inizio. Gira, 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 gira bel draghetto! Dove siamo finiti stavolta? Dalla vegetazione sembrerebbe una giungla. Però è un bellissimo posto. Oh, altro che questa foresta è cento volte meglio dell'antica Roma. Eh, Scooby? Oh, cavolo! Questa è una giungla, sì, ma preistoria. Ritiro quello che ho detto prima. Roma è incantevole in questo periodo dell'anno. Ehi, guardate laggiù. Ehi, guardate laggiù. Pensavate di essermi liberati di me, ma era soltanto un'illusione. Oh, griffio! Sta cavallicando un tirannosauro! Andiamo in mezzo a quegli alberi! A questo lato riusciranno a seguirci! Andiamo andando, amici! Ehi, guardate! Nessun lucertolone fa del male ai miei amici. Dio! Inchinatevi davanti a me, mortali! No! 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 Tutti dovranno servire a me. Per sempre! Shaggy, guarda! Finalmente! La libertà è mia! Oh no, siamo arrivati troppo tardi! Non abbiate paura, però, di Shogun Shaggy e Samurai Skubi. Ora dovete continuare voi la lotta. Sguainate la spada del fato, cosicché il mio spirito possa entrare nella lama. Io sarò con voi in ogni istante. Guiderò la spada. Da dentro di essa. Ragazzi, guardate lassù! Oh, sono loro, Shaggy e Skubi! Oh, il mio collo! Puntualmente in ritardo, come al solito! Segni di artigli! C'è tutta una serie di impronte qui. Dromosauro teropode della specie mongolica. Un veloci raptor. Più di uno, direi, a giudicare da questi segni. Che cosa c'entra un veloci raptor con un'apparecchiatura olografica? Sentito, sono ancora qui, forse... Shhh! Via la luce! Nessuno faccia un fiato. No! Forse, forse li abbiamo seminati! Il vulcano si è Movito mentre Genova! Eccolo? Oh, il vulcano sta eruttando di nuovo! Oh no, guardatela che... Arrampichiamoci! Oh no, guardatela che... Qui siamo al sicuro, il tirannosauro sa soltanto correre e non arrampicarsi Guardati, mamma Pterodattino sta cercando di salvare il suo piccolo Ehi, e adesso dove vai, Scooby? Mi raccomando, stai attento! Oh... 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 Oh, Scooby, Lax! che succede ci mancava mi sa che siamo bloccati per dinci più che una buca questa mi sembra una voragine va bene sto guardando ma non mi piace per niente è soltanto una piccola salamandra aspetta Scoob non possiamo lasciare il furgoncino non mi piace per niente Sì, sì, sì! Grazie a tutti